amici di gossip news ben ritrovati io sono nat e questa è una nuova pillola di gossip soleil sorge o sorge che dir si voglia come tutti gli ex concorrenti eliminati dal gfv è andata nello studio di verissimo e si è fatta intervistare dalla nostra amica silvietta tofanin la conduttrice ha cercato di indagare sul suo rapporto con alex belli e praticamente il risultato non ve lo dico anzi ve lo dico più tardi e sembra ormai quasi certa invece la partecipazione di soleil alla pupa il secchione show ebbene sì in qualità di giurata badate bene ma ecco nel dettaglio che cosa ha detto la nostra soleil in quel di verissimo prima di proseguire l'invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti soleil sarà ospite di silvietta tofanin in quel di verissimo nella puntata che vi ricordo andrà in onda domenica prossima ma già io posso darvi qualche anticipazione ovviamente l'ex gfina parlerà della sua esperienza al gf vip e di cosa volevate che parlasse della ricetta della torta di mele no e non potrà mancare ovviamente il tasto alex belli l'intervista con la nostra silvietta tofanin è già stata registrata e pertanto in rete sono già apparse le prime anticipazioni che adesso io vi esplicherò soleil anche in quel di verissimo ha ribadito di non essere innamorata di alex anche se ha ammesso che nella casa ha cercato di tenere il piede in due scarpe se mai alex ha tenuto il piede in due scarpe soleil ha tenuto il piede in una scarpa quella di alex l'altra c'è qualcosa che mi sfugge forse vabbè in effetti ha cercato un po di sviare tutti quanti dicendo prima una cosa e poi un'altra praticamente lo stessa la stessa cosa successa in quel del gf vip dove uno dice tutto e poi il contrario di tutto prima dice bianco poi dice nero poi prima dice luce poi dice buio prima dice mare poi dice montagna insomma ma questo per sua stessa missione fa parte del suo personaggio vabbè allora siamo tutti tranquilli praticamente lei l'ha detto ho sparato una marea di minchiate ma fa parte del mio personaggio quindi va bene ergo pure io posso dirvi un sacco di minchiate tanto il mio personaggio e quindi sono giustificato in effetti qualche mincata la sparo anch'io però almeno nel quanto riguarda le notizie di gossip cerco di essere vero e il più veritiero possibile nonostante non si possa parlare di amore tornando alla nostra soleil il suo rapporto con alex all'interno della casona è stato vero e sì tra loro c'è stata tanta complicità tanta amicizia alchemica speciale chimica e chiamatela un po come volete alla nostra silviata tofanin soleil ha poi confidato che quando si accorta che l'amicizia stava andando oltre si è tirata indietro a ridaglie insomma nulla di nuovo le solite cose triteri triteri già sentite e risentite anche all'interno del gfvip l'unica novità forse è stata quando soleil ha ammesso che si stava innamorando di mister alex belli e beh ragazzi come si fa a resistere a mister alex belli io stesso se dovessi frequentare alex per un po di tempo mi innamorerei il mio gatto si innamorerebbe questa bottiglietta d'acqua si innamorerebbe di alex belli perché non si può resistere all'uomo beduino che non deve chiedere mai e insomma proprio così ha però aggiunto di essere riuscita a non innamorarsi di lui cioè si stava innamorando ma all'ultimo momento è riuscita a non farlo come avrà fatto ci chiediamo tutti noi e gli ha chiesto anche a silviata tofanin secondo le parole della stessa soleil lei stessa ha cercato di soffocare questo sentimento ma ragazzi che roba brutta no e no i sentimenti non vanno soffocati mamma mia io che non sono nessuno però voglio dirvelo non soffocati i vostri sentimenti che siano di qualsiasi tipo siano ma chi ci capisce qualcosa è bravo raga beh vabbè ovviamente ci aveva abituati in quelle del gf vib è il suo personaggio è il suo personaggio va bene va anche detto che l'ex gfina non ha mai visto alex come un ipotetico compagno di vita ragazzi io mi sto perdendo eh era d'altronde ben conscia che accanto all'attore ci fosse degli aduran ma certo ma anche il mio ghetto sa che c'era degli aduran se glielo chiedi ti dice ma che vuol dire c'era degli aduran ma poi la domanda omnia che la nostra silvietta è praticamente facendo le veci di tutti noi gli ha fatto e cosa è successo cara soleil con alex sotto quelle famose coperte ragazzi se le coperte potessero parlare la nostra silvietta quindi tofanin ha provato a indagare l'unica cosa che si è capito che alex le ha confessato il suo amore e per il resto oltre al bacio non ci sarebbe stato nulla di più quindi ultimamente sto leggendo anche nei commenti alcuni alcuni post anche sui social dove dicono che sotto queste coperte è successo il finimondo però ragazzi sono parole 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 di certezza non ve ombra per il resto quindi oltre al bacio non ci sarebbe stato nulla di più questo è quello che ovviamente sostiene la nostra soleil e come al solito ragazzi la verità o sta nel mezzo o la sanno solo loro noi possiamo solo fare supposizioni illazioni possiamo solo intuire ragazzi sotto le coperte un uomo una donna che si piacciono che c'è l'amicizia artistica chimica alchemica chiamatela come volete io non ci credo che non c'è stato niente però purtroppo non sono una coperta se erano una coperta potevo dirvelo perché le coperte ragionano in un modo diverso da noi no rimarrà sempre il dubbio comunque su ciò che realmente è successo tra i due sotto quelle coperte però che dirvi amici miei ce ne faremo una ragione voi ve la farete questa ragione senza sapere cosa è successo nel dettaglio sotto quelle famose copertone io penso che me ne farà una ragione dormire lo stesso i miei capelli me li sono già sprappati a suo tempo quindi non c'è problema alla domanda se si sia sentita usata da mister alex la 27 anni italo americana si è augurata che l'attore non abbia avuto quell'intenzione però già qui svia la risposta allora la domanda è ti sei sentita usata da alex e la risposta è spero che non abbia avuto l'intenzione sì ma ti sei sentita o no mamma mia questi personaggi televisivi dovrebbero imparare a rispondere chiaramente a queste domande vabbè a vabbè a detta di soleil con i suoi comportamenti alex avrebbe solo cercato di salvare se stesso ha scoperto l'acqua calda ha scoperto l'acqua calda perché pure il mio gatto ha capito che alex pensa solo a se stesso ma non è per criticarlo perché lo vediamo no lo vediamo una persona molto imperniata come si dice su se stesso no a verissimo ci sarà spazio anche comunque non per parlare non solo di alex ma del misterioso fidanzato carlo e io che sono carletto pare proprio che carlo carletto per gli amici esista veramente ma allora tutte ste cose che appena raccontato cara soleil è cascata tutta la struttura è cascata vabbè da quello che si è capito i due stavano insieme da poco quando soleil è entrata al gfvip ecco perché lei ha deciso di tutelarlo quindi ragazzi per tutelare il vostro uomo la vostra donna non c'è problema non parlate di lui o di lei ma limonate con chiunque vi capita tiro l'importante è che lo tuteliate no ma vi rendete conto che c'è nonostante tutto anche in quel di verissimo continuano a sciorinarci una valangata di minchiate senza preoccuparsi delle possibili conseguenze sapete perché perché di conseguenze poi non ce ne sono è quello il problema la tofanini non poteva certo non chiedere lumi ovviamente sulla domanda che adesso tutti noi ci stiamo chiedendo la pupa il secchione e sì da diversi giorni si parla di soleil come terza giurata del programma in onda vi ricordo dal 15 marzo di taglia 1 ho fatto un video tra il proposito qualche ora fa se volete approfondire l'argomento andatevelo a vedere dove li parlo di barbara lusso ma in questo caso no comunque non c'è ufficialità su questa cosa ma pare ormai che sia cosa fatta questo è quello che ha fatto intendere soleil come fanno ultimamente tutti questi vipponi no fanno intendere le cose ma non le dicono per la serie se poi succedono a ve l'avevo detto se non succedono o io non avevo detto niente posso dirlo si parlano il culo no è un modo molto intelligente di parlarsi i ciappetti perfetto nemmeno il tempo quindi di uscire dal gfvip se tutto questo è vero e pare che sia vero che la rivedremo di nuovo in tv la nostra soleil siete contenti di rivedere la nostra soleil in quella tv accanto ad antonella elia e federico fashion style e ragazzi pensavate di esservi schiodati dai marroni la nostra soleil ebbene no pare che sarà anche in tv ancora in tv contenti di rivedere oppure no benissimo ragazzi vi ho raccontato le ultime news in merito a tutto questo ambaradam ciccicocco e quindi vi ricordo che ovviamente l'intervista completa la vedremo domenica in quel di verissimo io vi ho dato qualche anticipazione quelle poche anticipazioni che si scovano cercando indagando sul web e però la domanda è che adesso sorge spontanea è ma la presenza di soleil in quel della pupa secchione secondo voi hanno fatto una cosa giusta hanno fatto un enorme minchiata per la serie siete dalla parte di soleil siete dalla parte di zio giovanni siete dalla parte di barbara d'uso siete dalla parte di silvia tofanin o siete dalla parte dello zio nat fatemelo sapere sotto con un bel commentino mi raccomando commentate come se non ci fosse domani e per il resto lo sapete mettete un like pensatevi al canale cliccate la campanellona e noi ci vediamo la prossima volta ciao ragazzi al prossimo video ciao